La luce, perché c'è anche il forno acceso, vado a riattaccare l'interruttore e torno subito, scusate, scusate. Così è troppo, professore, se ne accorge. È davvero impressionante. All'HBS ha più di 72, praticamente a 73. Le ghiandole se minacee stanno scoppiando, agli occhi ipervascolari. Come sospettavo è sull'orlo. Lei ha fatto un bel lavoro. Complimenti, signorina. Ma che barbaric. Caldella. Paride. Paride. Oh, paride. Signora, signora, sono io, posso? Posso, signora? Sono io. Mi riconosci? Signora, sono io, mi riconosci. Ero venuto per scusarmi per prima. Mi dispiace tanto quello che è successo. Purtroppo mi deve scusare, ma a me queste serate così proprio mi eccitano un po'. Sa come sono un po' nervoso. Allora, eh? Senta, se si sente meglio, io sono pronto. Eh? Suo marito Jessica l'ho già sistemato lì in terrazza, eh? Manca solo lì, signora. No, con calma. Signora, mica subito, non si deve... Ma ci abbiamo tutto il tempo. Con calma, eh? La notte è lunga. Va bene? Allora più tardi ci divertiamo, eh? Eh, Yolanda? Mi scusi tanto ancora per prima, scusi. Ciao, Yolanda. Ciao. Ecco!